Questa stampa perché riteniamo che da sempre Forza Italia guarda con grande attenzione al tema delle infrastrutture. Alessandro Cattaneo e Giorgio Mulè se ne occupano da sempre, ma questo è un momento particolare per il nostro Paese. Ci sono 354 cantieri ancora bloccati su 750, 77 commissari previsti dallo sblocca cantieri e ne è stato nominato soltanto uno. Abbiamo visto la tragedia sfiorata in Liguria per la seconda volta, ma soprattutto l'intervento, in questo caso obbligato, della magistratura per determinare l'attenzione necessaria e mettere in sicurezza i ponti e viadotti che purtroppo oggi non sono in una condizione di stabilità e di sicurezza. Tutto questo noi pensiamo che in Italia sia totalmente inaccettabile, non è da Paese civile. Il Governo, vediamo che chiacchiera, parla, fa passerelle, ma non ci sono posizioni concrete. Noi abbiamo una ricetta che l'Onorevole Mulè ha illustrato anche all'interno del question time che ieri abbiamo presentato al Governo. Siamo in contatto con Alessandro Cantanio, con tutti i nostri sindaci, con i nostri amministratori. Abbiamo il know-how e quindi oggi vogliamo presentare le nostre proposte con riferimento allo sblocco dei cantieri, allo sblocco delle infrastrutture, alla riforma del codice degli appalti e anche ad un sistema di verifica dello Stato di salute dei ponti e delle infrastrutture che, come dire, ad oggi evidentemente dimostra più di una falla, ma che deve essere affrontato con molta, molta urgenza. Quindi darei magari la parola a Giorgio e poi ad Alessandro. Grazie, grazie Presidente. Grazie e buongiorno a tutti voi. Ma ieri nel question time, quando ci siamo rivolti al Ministro De Micheli, abbiamo detto una cosa chiara. A noi non interessa aprire una lite tra, abbiamo detto, le campate del tempo presente e quella del tempo passato, perché quello che abbiamo davanti è un rischio vero di fare crollare, ahimè, non solo metaforicamente, il nostro futuro. Allora, fuori di metafora, noi abbiamo delle idee molto chiare e le abbiamo già dette in passato, però è arrivato il momento di ribadirle e sottolinearle. La prima, ci vuole un piano, come continuiamo a dire, che abbia il respiro lungo di una politica che sappia programmare. La politica che sa programmare non è quella attuale perché è basata su falsità. Si dice falsamente, si ripete falsamente, che nella legge di stabilità sono previsti 50 miliardi di euro destinate alle infrastrutture per un programma che in realtà dovrebbe arrivare fino al 2038. La verità che è scritta nella legge di stabilità dice che a disposizione veri soldi, veri spendibili, sono soltanto 730 milioni, quindi una cifra assolutamente, come dire, residuale rispetto ai bisogni. I fondi in realtà sono 31 miliardi fino al 2038, ma quelli spendibili per i vincoli di spesa introdotti sono soltanto 750 milioni nel 2020, 1 miliarde 100 nel 2021 e poco più di 1 miliarde 3 nel 2022. Se questa è la fotografia è inutile parlare di sistemazione o di prevenzione sul dissesto idrogeologico, è inutile parlare di messa in sicurezza delle opere perché al di là del concessionario autostradale in Italia ci sono più di 7 mila viadotti in Capodanas ai quali vengono drammaticamente tolte le risorse. Allora, per avere il respiro lungo di una politica che sa programmare, noi ci rifacciamo all'esempio virtuoso e che ha dato i suoi risultati della legge obiettivo che all'inizio del XX secolo varò il governo Berlusconi. Una legge che aveva dati certi sulla programmazione, sullo stanziamento e sul finanziamento delle opere. Viceversa l'alta velocità non l'avremmo creata in questo Paese e oggi, grazie a quella intuizione, a quella capacità di sapere guardare a lungo, oggi le ferrovie italiane che hanno acquisito quel know-how dell'alta velocità vendono la tecnologia agli spagnoli. In un Paese che in questo momento attrae investimenti in tutto il mondo, laddove vent'anni fa la politica fu capace di andare avanti, bene, i frutti si vedono e si raccolgono. Proponiamo quindi una legge obiettivo che l'abbiamo non a caso definita 2.0 e che va al nocciolo del problema. Da una parte le risorse che ci sono, se si può soltanto programmare in maniera intelligente, dall'altra svincolare, togliere il tappo che in questo momento fa sì che tutto viene bloccato e cioè sburocratizzare, dare la capacità a chi sta in prima linea e in prima linea ci stanno i sindaci, in prima linea ci stanno le amministrazioni regionali e dare a loro quella capacità di poter approcciare un appalto, un aggrave appalto non con il terrore di finire un domani sotto la lente di ingrandimento della magistratura ma di essere liberati in questo, con un interpello che è facoltativo ma deve essere preventivo da parte della Corte dei Conti per togliere il peccato originale dell'immobilismo di questo Paese che è la paura della firma. La paura della firma, ce lo dicono migliaia di sindaci in Italia, blocca, paralizza anche opere che sono urgenti e necessarie. Quando arriva la magistratura, come è successo nel caso di Genova, significa che il sistema dei controlli, il sistema della prevenzione ha fallito. La magistratura dovrebbe arrivare in un momento successivo, quando un reato è consumato. Se arriva in un momento preventivo, segnalando criticità di sistema, vuol dire che tutto il sistema, in questo caso, della vigilanza che era in capo al Ministero delle Infrastrutture sulle concessionarie autostradali, delle stesse concessionarie autostradali, ha fallito. L'abbiamo denunciato ieri, però, ripeto, vogliamo guardare avanti. Alessandro. Sì, grazie. Non da oggi, ma dal primo giorno di questa legislatura, Forza Italia ha dimostrato di essere dalla parte di chi le infrastrutture le vuole realizzare. Le ha realizzate nella sua storia e oggi crede che, guardando al futuro, questo Paese potrà camminare e aumentare un po' nella sua economia e nella sua propensione a aprirsi al mercato solo con un grande piano di infrastrutture. Oggi presentiamo, nei giorni in cui viviamo, un'emergenza, delle proposte concrete per cercare, non solo nell'emergenza, ma ogni giorno dare a questo Paese la possibilità di tagliare il nastro di nuove infrastrutture da qua in avanti. È stato detto prima, ci sono le grandi opere, per quelle proponiamo una nuova legge obiettivo. In fondo oggi è già stato detto, non lo ripeto, ma tutti abbiamo sotto gli occhi l'esempio virtuoso dell'alta velocità che tiene in piedi i bilanci di ferrovie dello Stato, perché fa anche questo, alta velocità, e muove un intero Paese rivoluzionando il modo di lavorare. Fu frutto di una legge speciale, la legge obiettivo, che diede dei buoni risultati e poi fu in qualche modo azzoppata, smantellata. Invece ci servono leggi, non dico speciali, ma leggi che tengono conto dell'importanza speciale che hanno le grandi infrastrutture. Perché è l'altro tema devastante, e qua invece metto più la casacca di chi ha fatto il sindaco, è che siamo stufi di dover lavorare, di poter lavorare solo quando ci sono le emergenze. Questo Paese, prima ci lamentiamo perché, e questi giorni lo stiamo respirando, in una logica manettare e giustizialista, di cui i 5 Stelle ne sono i principali artefici, ma anche una certa sinistra, tutti rubano, tutti stanno facendo i furbi, e quindi cosa abbiamo fatto? Una stratificazione di livelli di controllo. E quindi poi leghiamo le mani al sindaco Onesto, leghiamo le mani alla stazione appaltatrice Onesto, e non si muove niente. Succedono le tragedie, e allora cosa facciamo per poter realizzare le opere? Commissari straordinari. Ci vuole il commissario straordinario quando succede un terremoto, ci vuole un commissario straordinario quando scopriamo dopo anni in cui nessuno se ne è interessato che il Mose va completato, e così via. Badate bene, noi siamo a favore dei commissari straordinari, ma in una situazione di emergenza, ma un Paese non può vivere nell'emergenza. Noi vogliamo poter tornare a fare nell'ordinario opere, infrastrutture, realizzare cantieri. E purtroppo non c'è neanche un tema, e questo è paradossale, di solito uno dice perché non si fanno le opere, perché non ci sono i soldi. Non è nemmeno vero, anche quando i soldi ci sono, le opere non vengono realizzate, c'è un problema ancora più drammatico, ci sono miliardi di euro virtuali, i sindaci non hanno ancora speso i soldi del piano città di Monti del 2012, del piano periferie del 2015 e seguenti. Cubano in totale quasi 3 miliardi di euro, quanti di quelli sono diventati cantieri, che vuol dire messa in sicurezza, ma anche economia locale, PIL, poche poche milioni di euro, quindi una percentuale irrisoria. Quindi facciamo tutti una riflessione, non si può andare avanti a lavorare per emergenze, per commissari straordinari. Prima cosa, rivediamo il codice appalti. È stato annunciato da tutti, perché nessuno lo fa? Cosa stanno aspettando? Il codice appalti, si lamentano tutti, si lamentano i sindaci, si lamentano i dirigenti, l'ha detto che devo mettere una firma e oggi gli trema la mano e chiedono pacchi di pareri legali per garantirsi di non andare in galera. Si lamentano le aziende, noi eravamo presenti all'Assemblea Nazionale del Lance, il costruttore, a me ha colpito questa frase, ormai nelle imprese di costruzione italiane ci sono più avvocati che ingegneri. Poi questa frase ha fatto un po' l'abbare gli avvocati, però io non c'avevo quegli avvocati, nel senso che un'azienda di costruzione, chi dovrebbe assumere? Degli ingegneri e dei costruttori. E invece paradossalmente ci sono più uffici legali, perché il virtuale della carta supera la complessità della progettazione, della realizzazione dell'opera. Questo è paradossale, è paradossale, ma è così, perché ormai pensate in un comune per un appalto anche normale, ormai abbiamo tre livelli di controllo che ci sono sempre, l'ANAC preventivo, e anche sull'ANAC ragazzi facciamo una riflessione, quindi ormai ci si chiede prima il prelare all'ANAC, poi si fa il bando e dopo hai matematico, TAR e consiglio di Stato. Vuol dire che da quando uno ha pensato l'opera e anche ha trovato i soldi a quando la realizza, se è bravo ci vogliono due anni. Ma come possiamo, ma questo se va bene, questo se va bene per un'opera, parlo medio piccola, per opere grandi non ne parliamo. Quindi insomma, davvero una riflessione, abbiamo detto, legge obiettivo sulle grandi opere, revisione del codice appalti per tutte le opere per far ripartire il Paese, e poi aggiungo un terzo elemento che in questa fase emergenziale è centrale, noi abbiamo bisogno intanto anche di fare un check-up a tutto l'esistente, quindi per esempio noi stiamo promuovendo dei bandi che mettono a disposizione anche dei comuni tutto ciò che può essere sensoristica per avere un quadro della situazione. In una città media, io quando amministravo a Pavia avevo 50 scuole, io innanzitutto e ho pochissimi denari, dove inizio è importante avere il quadro intanto della situazione sotto controllo e anche in questo caso la regione Lombardia è all'avanguardia, lo porto per un caso che conosco, ha aperto il 30 ottobre, chiude il 30 novembre che è tra due giorni, un bando che mette a disposizione circa 4 milioni di euro a comuni, piccoli comuni per dotarsi intanto di sensori ed elementi di monitoraggio per avere un quadro della situazione, perché diciamoci la verità, magari le grandi società, le grandi infrastrutture già fanno fatica hanno un quadro però insomma ragionevole di come stanno le strutture, ma i comuni, in 8 mila comuni italiani si va alla cieca, allora se io devo rifare una scuola, una zona sismica, da dove inizio, da quella che magari è stata costruita dopo? No, falso, perché magari è stata costruita negli anni 50 ed è più e meno stabile che una casa di un secolo prima. Quindi il terzo elemento di proposta concreta è avere a disposizione subito dei comuni italiani delle risorse per poter intanto fare un check up totale di tutte le infrastrutture e che sappiano quelle che sono ammalorate e quelle invece che sono sicure. Quindi insomma oggi ci proponiamo vedete al paese con proposte molto concrete sia di largo respiro delle grandi opere ma anche di dettaglio delle piccole. C'è un paese che vuole ripartire ed è ingessato da burocrazia e poi sono stufo anche di vedere che per ogni cosa ormai bisogna avere lo scudo penale. Anche qua intendiamoci sull'ILVA è giusto dare lo scudo penale noi abbiamo proposto in ogni atto che passava ma ormai sembra normale che per lavorare ci vuole lo scudo penale? Cioè ogni tanto fermiamoci un secondo a pensare che questa è un'anomalia di un sistema che ormai è andato alla deriva patologicamente perché se ormai serve lo scudo penale per l'ILVA ma probabilmente l'altro giorno due governatori l'hanno chiesto anche per gli 8.000 sindici allora capite bene che c'è un rapporto malato anche tra le responsabilità a magistratura e poi quelli che rimangono in prima linea e devono realizzare le opere prendendosi le responsabilità. Quindi davvero insomma noi siamo per un paese dove e qua davvero concludo si passa dalla cultura del sospetto alla cultura della fiducia noi siamo sempre stati così abbiamo fiducia nel paese le grandi opere lo fanno ripartire noi non pensiamo che siano tutti ladri pensiamo che i sindaci anzi siano persone in prima linea le ringraziamo con un paese che ritorni ad avere fiducia allora potrà anche ripartire le infrastrutture e l'economia. All'inizio della legislatura con la Presidente Casellati avevamo presentato e depositato una proposta di legge per una commissione di inchiesta sul dissesto idrogeologico purtroppo nel governo precedente né questo hanno preso in considerazione la proposta della Casellati e di Forza Italia noi intendiamo ribadire invece fare un appello al governo perché questa commissione venga istituita perché sono bloccate le grandi opere ma il tema del dissesto non si può affrontare solo a valle di una tragedia di una mancata emergenza ci sono 12 miliardi fermi solo sul tema del dissesto occorre avere una pianificazione nazionale e non si può lasciare da soli i sindaci e i governatori nell'affrontare questa emergenza. Ci sono domande? Sui numeri iniziali sono le lascerra della DNA Kronos aveva detto l'onorevole Gelmini ci sono 354 infrastrutture bloccate su 700 perfetto la ringrazio l'onorevole Gelmini l'onorevole Gelmini